Il mare è salva nel mondo, non è un cimitero, è una strada per iniziare a una nuova vita. C'è da stare a casa, andare al bar e andare in casa. È una routine un pochino noiosa. Ci sono altri problemi per le persone che vivono qui, che per l'immigrazione delle persone. I loro devono capire che non devono venire qua. Sai, a Lampedusa o ci nasci o altrimenti non riusciresti a vivere qua. Grazie.